Ciao ragazzi, io per l'avviso Spalman Noe Home Mi raccomando, farò dei piccoli spoiler Qui in cui non ho visto il film non proseguo la visione di questo stato di Whatsapp Perché farò dei piccoli spoiler Il film mi è piaciuto veramente tantissimo È un gru di fanservice che ti travolse, ti prende Ma è un fanservice fatto bene, cazzo Era quello che volevo, un fanservice che ti colpisse al cuore Questo film è fatto col cuore Non è roba buttata lì per accontentare il fan No, è fatto bene Ha dei enormi difetti Ma chi se ne frega, perché nella seconda parte del film Quei difetti, chi se ne frega Ragazzi, solo rivedere i tre Spiderman insieme Megui e Garfield Mi viene la malicogna che mi viene da pianto Io quando ho visto Megui ero pianto Anche la mimica che aveva del film ha pianto che lei Dai, è una roba assurda Ma la parte più bella è la morte di Jamei Che arriva con una violenza Che trasforma lo Spiderman in Holland E lo fa diventare aggressivo Perché si a me muore per colpa di Goblin Che arriva con l'aliante L'aliante la colpisse La scaramenta sotto il muro Le spacca tutte le ossa E come se non bastasse Le tira anche una granata Una bomba a zucca di Goblin Arriva addosso Peter fai tempo a prenderla Per evitare l'esplosione Ma non esplodono tutto lo stesso E quando vedi Megui si rialza Che sembra che sia sana e salva Si afflosse a terra E gli disse la frase a Peter Bellissima E muore tra le brasse di Peter Con Peter che pianze Ma non fai tempo neanche a sale Comincia Megui e arriva la SWAT Che gli sa sparare addosso Spiderman Bellissimo Poi la scena dopo Quelli di Peter sotto la piozza Vedere i tabelloni Che gli dicono che Peter Dove va Spiderman Su sale sempre qualcosa È colpa di Spiderman Quella scena epocale Tom Holland è stato bravissimo In sto film Veramente bravo La puttanata che gli dicevo Più grossa E l'incantesimo Perché per la prima multiverso Cosa fa Peter Va da Strange E chiede di fare questo Incantesimo Per far indicare tutti quanti Che Peter Parker è Spiderman E nel parlare Fa confondere Strange Se l'incantesimo fallisse Si aprono le crepe rimensionali E arrivano i bill Degli altri universi Quando rivedi Dr.Octopus sul ponte Goblin Con la sua risata Che tira le zucche Madonna Che bello Che bello Hype proprio lì Cioè È un fanservice Fatto bene Con le citazioni Goblin che dice Le sue battute Dr.Octopus Che dice le sue battute Vi è rimensionato Spiderman 2 Spiderman 3 Amazing Spiderman 2 Tra l'altro Quell'Electro Mi è piaciuto molto Di più di quella Cagata di Amazing 2 Veramente fatto bene Solta Electro E Il finale È una roba Che ti lascia la mano In bocca Che tu dissi Ma porca miseria Un film di Spiderman È così brutale Su di lui Se alla fine Peter Si ritrova Senza più niente Senza nessuno È uno Spiderman Da solo E sta roba Mi è piaciuta Da morire Il finale È veramente drammatico Ed è un film di Spiderman È drammatico il finale Di sto film Io non me lo aspettavo Poi porca miseria Il fatto che Peter A un certo punto Si fa il costume Con la macchina Da cuscire Dico Finalmente Il vero Spiderman Abbiamo Alleluia Se Si voleva tanto Così nella prossima Tecnologia Vedremo lo Spiderman Di Tom Holland Con il costume Tanto Goblin Quanto casso È inquietante Mentre C'è una sequenza Del combattimento Nel palazzo Di Peter Dove Loro due combattono Peter Inizia a Pestarlo E lui continua a ridere Sei una roba incredibile Willem Dafoe è stato Bravissimo qui Veramente È una roba assurda Comunque Tutto sommato È un film Veramente incredibile L'ho trovato A certi punti Meglio anche Di Avengers Sandgame E per me Sì È un grosso Sì ragazzi Togliete tutti i difetti Per me È bellissimo E anche se Ci sono questi difetti Avversanza evidenti Che anche a me Mi ha fatto un po' Incassare Io a un certo punto Ho detto Ma chi se ne Frega ragazzi Fatemi dargli Tre spade Insieme Che combattono Per me S'era già fatta Sì La nostalgia Ti viene Io sono cresciuto Con la spade In Miguire E rivederlo Da tutti questi anni La nostalgia Le lacrime Mi sono venute Comunque Chi ha visto No I Home Mi commenti Su Whatsapp Cosa ne pensa Di questo film Altrimenti Chi non l'ha visto Ripeto Questa è una piccola Preview spoiler Di quello che ne pensavo Del film Ma per me ragazzi È un grande Sì Merita lo schermo Merita la sala Andate a vedervi Nuove home Ciao Ciao